Gesù 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 011 5730 è a posto si si vi costa meno che quei due, prenderne due mi dici che siete in c la telefonata potrebbe essere registrata è registrata che mi sta ciappa di minchia facciamo sentire da un'epastina rimanete in attesa per non perdere la prima età cos'è sta musica d'attesa di merda? noi a Milano c'hanno la musica quella questa qua è quella di 60 anni chi mi sentono porco dio c'hanno un servizio di merda non è vero scherzo basta che mi trovate un taxi subito se no porco dio fra un minuto stacco minchia sta musica mi fa salire veramente il latte alle ginocchia però ma che è? ma la musica dell'ospizio rimanete in attesa a breve un operatore vi risponderà si rimango pucchina oh calma rimango in attesa vuoi dire tutto qua tanto? si si anzi pure poco no gatto non lo faccio quello però capii rivedendola risentendola sempre è normale che un po' mi sento distante ah cazzo a causa dell'intenso traffico l'attesa potrebbe provare ma qua è la troia ma poi quale traffico alle 5 di mattina quale traffico traffico nelle tele non possiamo vedere che non troviamo un taxi siccome ti sentite ti sto scammando ti sentite per questa ma c'è buonasera eccolo buonasera si salve avrei bisogno di un taxi in via saluzzo 32 a Torino to ma digli che siete in 5 porca troppa porco tutto porco perchè ti sentono quando c'è la musica in Torino ma donna di dio non fanno diprezzo le situazioni bro ma poi non mi dice niente non mi ha detto di confermare un cazzo ma non può mandarmi il taxi così morca non fanno diprezzo non è il caso che non mi hai chiesto quanti siamo una volta che c'era uno che era venuto qua si era imbriacato fra io chiamo il taxi e dico eh c'è un mio amico si è un po' brillo va bene allora richiami tra mezz'ora me l'ha attaccato si perchè come dire sennò muovita in macchina si e muovetevi se no vi faccio perdere i soldi a tutti quanti porco dio dai che l'unica ah intanto tu sei piccolo e ti metti in braccio ma non si può si tacca se non si può ah meglio facciamo fare lo stesso cioè o fa così o non saliamo e non gli diamo i soldi cioè è questo il gioco non ha il senso c'è poco da fare se arriva il taxi diciamo che io non a causa dell'intenso trattamento ma qual è traffico ma siamo solo noi a Torino le 5 svegli è vero sennò ti potrei ah ti possiamo mettere nella mia valigia ti mettiamo già ammicchiata mi metterei il biscotto buonasera si buonasera salve avevo chiesto un taxi due minuti fa in via saluzzo 32 però mi sono dimenticato di specificare un dettaglio importante noi siamo in 5 sarebbe possibile richiedere un taxi con almeno 5 posti per i passeggeri eh un attimo solo per far sospendere quello che sta arrivando perché non è a 5 posti grazie grazie mille molto gentile davvero gentile grazie Robi ti tolgo la corsa di Parigi 36 diglielo perché sono in 5 grazie grazie mi scusi ah così manco ti saluta ah minchia che servizio comunque taxi Torino cioè ci manca solo come adesso fanculo non arrivano ma si avrà detto di si eh per far capire se ci arriva il taxi però non ci ha detto un cazzo cioè rimanete in attesa per non perdere la priorità c'è il traffico ma vedi ma si era sotto inteso che ha detto di si che viene si scappiamo in 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 l'Albania bro andiamo a Ljubljana Omania ma Ljubljana ma che chi si vuole fare un viaggio pazzo bro no i misquits pastina domani no dopo lunedì partiamo per l'Albania no martedì un lunedì non ci sono martedì rimanete in attesa taxi buonasera si salve sono sempre io e volevo chiederle se ci fosse appunto disponibile un taxi per 5 e glielo stiamo cercando aspettisci un attimo eh si no grazie perché vedevo che buttava giù la chiamata e quindi non capivo cosa fare grazie ok per 5 arriva 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 raga minchia che bastarda non lo richiame non lo so quanto hanno sentito i minuti non lo so e poi vedremo se tra 10 minuti non sta qua la richiamo e gli dico sei una zocca che non sta fare il tuo lavoro cioè minchia ma bastarda forte questa eh comunque questa live qua sono le migliori eh sì fortuna adesso sì Grazie.